cari lettori e lettrici di open mag bentornati è ormai giugno e con l'estate che si avvicina non potevamo non dedicare questo mese al sole che illuminerà le nostre giornate e anche i nostri articoli molte sono le novità che ci e vi attendono questo mese infatti ci occuperemo di benessere benefici per la propria salute e quindi di come portare un po di sole nella vostra e nella vita delle persone a voi care vi racconteremo di come il sole ci abbia accompagnato durante la giornata mondiale dell'ambiente nella fantastica azione di pulizia delle spiagge portata avanti da Aichem Calabria e per rimanere in tema ambientale viaggeremo anche nel mondo della botanica per parlare di piante e di specie che amano particolarmente la luce del sole ci occuperemo di sport e di yoga e di come il sole sia un riferimento molto importante in alcune discipline tanto da avere un vero e proprio saluto dedicato vi parleremo della possibilità di utilizzare il sole come fonte di energia rinnovabile e dei suoi moltiplici altri usi non di meno l'essere ispirazione per i famosissimi tormentoni estivi infatti sapete come nascono rimanete con noi per scoprirlo insomma questo mese è particolarmente ricco ma soprattutto particolarmente importante per noi lo abbiamo infatti tanto aspettato per presentarvi dei grandi cambiamenti per open mag perciò non vi resta che mettervi comodi iniziare l'estate insieme a noi ed essere pronti ad essere stupiti sotto il fantastico sole di giugno